Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e mi trovo a bordo di Costa Smeralda. Adesso sono al Ponte 7 e vi farò vedere il Casinò Laguna. Venite con me! Il Casinò è un posto perfetto per divertirsi ma senza esagerare. Grazie a tutti. Questa è un'altra sala. Spero vi sia piaciuto, vi aspetto a bordo di Costa Smeralda. Ciao!